Domenica scorsa, con una solemne Eucaristia e una importante allocuzione di Papa Francesco, è conclusa in Vaticano la riunione di tutti i Vescovi del mondo dedicata alla questione della pedofilia clericale, agli abusi sessuali all'interno della Chiesa. È finita la prima parte, si potrebbe dire, perché l'incontro dei quattro giorni è terminato con un insieme di eventi, di parole, di relazioni molto concrete, però al tempo stesso hanno i partecipanti, il Papa e gli altri, hanno rimandato a una seconda tappa, cioè a un futuro momento in cui saranno pubblicati nuovi documenti, un bademecum per i Vescovi affinché sappiano come comportarsi nel combattere la pedofilia e al tempo stesso un motu proprio del Pontefice, cioè una nuova legge dove dovranno dare norme, discipline, regole per continuare questa lotta. Quindi è finita una riunione importante ed è incominciata per la Chiesa una nuova tappa nella lotta contro gli abusi sessuali all'interno della Chiesa.